Sarà online sabato 5 dicembre sui canali social del Consiglio regionale del Piemonte e sul sito del Salone del Libro, se questo libro fosse, l'evento voluto dall'Assemblea regionale per promuovere la piccola e media editoria locale. Realizzato in collaborazione con il settore promozione dei beni librari archivistici, editoria e istituti culturali della Giunta regionale, con i piccoli editori e con la rete delle biblioteche pubbliche del Piemonte, se questo libro fosse, fa parte del Cartellone di Vitanova, la festa del libro online organizzata dal Salone del Libro di Torino dal 4 all'8 dicembre. Al Circolo dei lettori, una non-stop di letture e approfondimenti, coordinata dallo scrittore Giovanni Dal Ponte, presenterà al pubblico racconti, romanzi, saggi tra i volumi più apprezzati e richiesti in prestito dai lettori delle biblioteche piemontesi. Quattro minuti per ogni titolo, raccontato attraverso linguaggi diversi dalla fotografia alla musica, dall'illustrazione alla videointervista. Ad aprire la mini-maratona di lettura i saluti dell'assessore regionale alla cultura Vittoria Poggio e del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Unanime l'invito a riscoprire le proposte degli editori piemontesi ed il sistema bibliotecario, a iniziare dalla Biblioteca della Regione Piemonte intitolata Umberto Eco. Una biblioteca molto interessante a livello culturale perché conta più di 60.000 monografie e oltre 1.000 riviste. Un'importante fiore all'occhiello della regione che deve essere portata a conoscenza di tutti i cittadini piemontesi. E quale occasione migliore è il Salone del Libro, in modo tale da trovare il connubrio fra realtà esistente che è la biblioteca della Regione Piemonte, assieme a tutte le altre biblioteche civiche torinese e i piccoli editori. Se questo libro fosse, non è però l'unica iniziativa del Consiglio regionale per Vita Nova. Domenica 6 dicembre sarà online il videodocumentario Megna Rodari Binomio Fantastico e fino a martedì 8 sui canali social del Consiglio saranno disponibili quattro fotoracconti dedicati al libro cuore tra fiction e realtà.